Breve video per un'operazione che tutti i possessori di trasmissioni stradali Shimano di 2,12 velocità dovrebbero conoscere, quale? La regolazione delle leve freno-idrauliche. Due regolazioni, la distanza della leva dal manubrio e il punto di innesto della frenata, ossia il momento in cui la leva effettivamente agisce sui pistoncini. Operazioni semplicissime, serve solamente un attrezzo, una chiave a brugola da 2. Iniziamo! La prima operazione è la regolazione della distanza della leva freno dal manubrio per adattarsi alle diverse dimensioni delle nostre mani, ovviamente, delle mani dei ciclisti. Dunque, brugola a vista facilmente questa qui argentata che vediamo fare capolino da sotto la leva. Si agisce con una chiave a brugola da 2, andando ad avvitare, allontaniamo la leva, andando a svitare, invece, noi la possiamo avvicinare al manubrio. La seconda regolazione è il punto di innesto, ossia il momento in cui la leva freno effettivamente aziona i pistoncini. Possiamo anticiparla o ritardarla lavorando su questa piccola brugola da 2 nascosta qui dentro. Quindi, prima dobbiamo capovolgere il copricomando in modo da portarla a vista, capovolgerlo partendo dalla zona anteriore, e poi possiamo avvitare o svitare a seconda, se vogliamo avere un innesto più pronto o meno pronto. Infatti, come possiamo vedere, la piccola brugola agisce qui su questo sistema a vite che è collegato qui all'attacco dei pistoncini, diciamo così. Allora, noi possiamo avvitare o svitare e in questo modo aumentiamo o diminuiamo il punto di innesto. Come abbiamo visto, è una regolazione estremamente semplice e veloce. Per quanto riguarda la distanza, beh, c'è la comodità della brugola a vista. Per quanto riguarda invece il punto di innesto, c'è semplicemente da sollevare il copricomando. Mi raccomando, facciamolo sempre con attenzione per non danneggiarli. Per riposizionarlo correttamente, nel caso in cui crei sempre quella grinza, un consiglio, un po' di alcol e scivolerà via una bellezza. Alla prossima. Ciao.